C'era un colombiano, un russo e una bipolare con le persone speciali su Radio Bari e ovviamente non sono tutti, qui abbiamo soltanto il colombiano Maurizio Dallavilla, buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno Barbara, grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. Insomma ce l'hai fatta, volevi tantissimo questo spettacolo, finalmente avete fatto una piccola anteprima alla piccolo di Bari, invece ora si parte, si parte al Teatro Forma, sabato alle 21. Assolutamente, perché ci crediamo in questa commedia nel senso che è partita dal fatto che la gente ce l'ha richiesto, noi siamo molto sensibili a questo tipo di discorsi e ci hanno chiesto ma perché non fate quella commedia che avete fatto al piccolo teatro, il piccolo teatro dove io sono nato, ci tengo a dirlo, nel senso che ho cominciato le mie esperienze lì, un teatro un po' più piccolo e abbiamo deciso di praticamente provare. proporci direttamente al Forma e tutti e tre, cioè io, Iliana Pepe che ha scritto questa commedia, Lorenzo D'Armento che è un altro carissimo amico e grande attore anche lui, quindi siamo tre attori di tre strazioni. Che salutiamo ovviamente, salutiamo anche gli altri due. Insomma sì, sarete sul palco tutti e tre con i vostri personaggi molto caratteristici, no? Assolutamente, diciamo io non so fare la recensione che ha fatto Iliana perché secondo me Iliana più che essere un'attrice è una grandissima scrittrice e quindi se andate sulla pagina Facebook di questo evento leggerete la sua recensione che la spiega benissimo. In realtà si tratta di una commedia dove ci sono due personaggi che io avevo scritto e con i quali ho partecipato a Zeddy Club e hanno avuto successo, più che altro il columbiano perché il russo non l'aveva ancora presentato e Iliana ha avuto la capacità, grande capacità perché veramente scrive benissimo, di inserirli in questa commedia. Di creare una storia intorno, insomma. Quindi io vi invito, non vi vorrei svelare tutto, però in realtà... No, lo sveliamo nulla, però diciamo che è una commedia molto divertente, anche basata su degli equivoci spesso, no? Assolutamente, io sono diciamo un depresso che si vuole innamorare di questa bipolare, cerca in tutti i modi di farlo, quindi anche di travestirsi, con diciamo aiutato da Lorenzo Darmento che è Andrea, una persona, una stellina che è pazza per Barbara D'Urso. E pensa tu? Una stellina, sì, vi ho detto tutto perché prima di questo... Su Barbara D'Urso credo che tu abbia detto tutto, anche perché insomma sono molto molto curiosa di vedere Lorenzo Darmento nei panni di un fan di Barbara D'Urso, sarà divertente. E' effemminato ovviamente, intendo stellina che è effemminato, bravo, bravo, bravo. Cioè tu pensa che molto spesso tratteniamo tra noi le risate perché... E immagino, immagino insomma che sarà parecchio difficile, poi quando c'è sintonia, anche quando c'è anche amicizia. Assolutamente, abbiamo fatto una piccola prova nella mostra di Michele Condro, il pittore che conoscete, e c'erano poche persone, ma le persone si sono domandate ma da quanto tempo lavorate insieme? Proprio perché c'era questa affinità tra noi. E si è creato, chiaramente siamo molto amici, però questo lo abbiamo portato in maniera molto naturale sul palco. Quindi noi generalmente non facciamo pubblicità, ci imbarazza la pubblicità. Ma questa volta, siccome ci crediamo e siamo convinti di offrirvi un'ora e mezza di divertimento e di rilassamento, come magari non se ne vede da commedie di questo tipo, sono un po' più attuali, un po' più... Passano veloci ed entrano facilmente nella mente. Nella mente, poi di quelle cose che difficilmente poi dimentichi. E' un put purri. Ecco, pensa tu, guarda che eccitazione. Allora, per le prenotazioni, perché ci sono ancora pochi posti disponibili, però il Teatro Forma va riempito, ve lo dico, potete andare presso il bottiglino del Teatro Forma, oppure direttamente chiamarlo al 080 501 8161 e poi c'è un altro numero di telefono, che è quello di Lorenzo Darmento. Ci tenevo a dirvi che il Teatro... Andate messaggio a Lorenzo Darmento. Sì, il Teatro Forma, l'orario del bottiglino è dalle 10 di mattina alle 18. Esatto bene. Sì, perché molte persone pensano che sia un teatro e quindi sta aperto la sera con le botteghe. Invece dalle 10 alle 18 per le prenotazioni. L'altro numero è di Lorenzo Darmento, che devi leggere tu perché sono senza occhiare. 3, 2, 8, 4, 8, 8, 4, 6, 2, 4. Potremmi dirvelo prima, evitavo di fare questa gaffa. Allora, c'erano un colombiano, un russo e una bipolare. Mi raccomando, sabato alle 21 al Teatro Forma. Tra l'altro, io ti ho anche beccato in giro perché becco Lorenzo nel corteo di San Nicola e do fastidio lì. Poi ho dato fastidio a te proprio durante la messa in scena di Amleto. Ne ho parlato proprio ieri con voi perché, sì, c'è questo Amleto molto particolare. Tra l'altro, una messa in scena particolare, non comodamente seduti a teatro, ma in giro per le stanze di Palazzo Fizzarotti. Un idea di Nicola Valenzano. E ci sei anche tu, Maurizio. Sì, faccio il Polonio, il papà di Ophelia. Devo dire che ha avuto un'intuizione spettacolare Nicola Valenzano perché ha funzionato. Stasera lo riproponiamo a Palazzo Fizzarotti con due orari, uno alle 20 e l'altro alle 21 e 30. Credo che sia andato benissimo perché penso che sia già tutto quanto pieno. E sì, perché per replicarlo è la terza questa replica, giusto? In realtà è la qua, sarebbero le seconde due. Ok, perfetto, perché c'è il doppio spettacolo, diciamo, alle 21 e 30. Però insomma, doveva essere un one shot invece. Invece è andata benissimo. È andata bene, l'avete replicato. Ma penso che con Nicola abbiamo anche parlato di riproporlo in palazio masserie che si prestano bene ad ambientare Amleto. Poi, parliamoci chiaro, di fare un discorso itinerante molto più piacevole. Sì, è divertente insomma. Se si creano dei problemi. Sì, anche se poi sono quelli che devono intervistare, che si mettono in mezzo, proprio nel momento in cui io devo andare a fare il papà serio di Ophelia. Sì, sono trovata nel mezzo di una scena praticamente. La prossima volta la spingeremo giù dalla scalinata. Via, togliti e ruzzolerò giù. No, però anche il pubblico, no? Perché loro non hanno abiti, diciamo, gli abiti di scena soliti dell'Amleto. Siamo tutti in smoking. Tutti in smoking. E quindi le persone... Le persone non si accorgono che sono attori. Sì, e le persone che vengono invitati. E quindi rimangono lì e loro che cercano di aprire un barco tra la gente. Certo, perché sono tutti in dress code, gli invitati. Sì. Per cui a me è successo proprio di dover chiedere a una signora di togliersi mentre stava riprendendo con un tablet e non si spostava. Ho detto, gli altri hanno detto, signora, è l'attore che deve entrare in scena. Però hai voglia. Si rimane, si rimane lì. Allora, alle 20, alle 21 e 30, Amleto, questa sera a Palazzo Fizzarotti, dove ci si può informare. C'è anche l'evento su Facebook, l'ho ricordato ieri. Sì, sì, c'è l'evento su Facebook, ma credo che sia già tutto pieno. Vabbè, provateci, insomma, può essere che qualcuno nel frattempo abbia... Vi aspettiamo sabato tutti. Sì, e sabato, mi raccomando, alle 21 al Teatro Forma, ovviamente ve lo ricorderò io nel corso di questi giorni. c'erano un colombiano, un russo e una bipolare. Grazie a Maurizio D'Avilla, grazie per essere stato qui con me. Maurizio, è sempre bello ritrovarti nei nostri studi. In bocca al lupo, ovviamente, per questa nuova avventura. Ci ritroviamo presto. Promesso? Promesso. Promesso. Io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice, ma noi continuiamo su Radio Bari. 88.8 www.radiovari.net del cuore.net . . Grazie per la visione!